Quest'oggi inizia il contest per decidere la nuova serie dei 2 players 1 console Ebbene sì, sarete voi a decidere quale sarà il gioco che continuerà ad essere portato nel nostro canale E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stefano e questo gioco mi chiamo Hayden Primo tentativo del nostro contest, ovviamente con i dei Un giochino che a noi piace tantissimo Tipo qualche anno fa ci abbiamo nerdato come di disperati specialmente io Perché ovviamente come non può la regina degli animali Fissarsi sul gioco della fattoria Una fattoria, giustamente ero già portatissima per queste cose Quindi oggi iniziamo con questo Mi sembra doveroso spiegare un attimino meglio il contest No, ovviamente spieghiamo il gioco, poi il contest Allora, praticamente come funziona? Oggi escono due video, il primo è questo, il secondo sarà su un altro gioco Il video tra questi due che farà più visualizzazioni, likes, voti nel sondaggio, commenti Valuteremo tutto quello che si può valutare nel mondo Esatto Quello che andrà meglio, entro facciamo tipo sabato, domenica Adesso decideremo un pochettino Vince e diventa appunto la nuova serie del canale L'altro invece decideremo se appunto magari continuarlo in futuro Se vi è piaciuto molto o meno Quindi avete totalmente il potere di decidere che cosa appuntiamo nel canale Sì dai, noi siamo sempre indecisi perché ci piacciono tante cose Quindi per una volta abbiamo detto Esatto Facciamo decidere interamente i consolini Secondo me è una bella cosa da fare tutto assieme Partiamo con il primo gioco Appunto dobbiamo gestire la nostra fattoria Partiamo dal tutorial per farvi vedere proprio tutto Ovviamente potrete aggiungerci agli amici Non appena andiamo un po' più avanti Allora sono il signor Wicker, ti aiuterò a mettere in piedi la tua fattoria Ottimo, grazie Wicker Non abbiamo bisogno Feriniki è arrivata a livello 35 Ma lei sa fare queste cose Che mi prende qua per una principiante Ma scherziamo, scherziamo Come si permette Allora ci fa vedere subito come mettere il grano Praticamente selezioniamo così Ops Aspetta, devi selezionare la falce Selezioniamo così La falce E tagliamo tutto il grano Sei molto bravo come agricoltore Dai, stai già dando segni di fallimento qui Allora, io facevo le coltivazioni di grano quando neanche rinata, ok? Va bene Ma è impossibile Tu hai la fattoria a livello 0 Io 34 34 Non è allo 0 Stesso sistema Selezioniamo e mettiamo il grano qua Adesso ovviamente dobbiamo aspettare Quindi praticamente seminiamo 1 Riceviamo 2 Esatto, molto semplice Molto semplice Tocca la tua casa e dipingila Trascinando il pennello So che dovevi leggere tu Ma ti ho anticipato Infatti stavo già per leggere Mi hai disturbato Vabbè, vai Sono un po' infastidito Perché adesso vi faccio vedere Ho questo malloppo Per ricaricare il telefono Attaccato Che pesa un sacco E non so dove tenerlo Mettitelo qua dentro la maglietta No, stavo scherzando Ti prego, smettila Non è una cosa Ok Non so Dove è finita Perché fa queste cose? Perché me le hai proposta? Perché? Perché è così? Perché io devo fare video Con questa persona qui? Ma non scelgo un altro Dai La mente malsana è tua Guarda Scelgo un altro compagno di video Perché mi hai stancato No, dai Io sono carino No, non lo so Dove le trovi uno così sorridente? Ovunque Dai Allora adesso dipingiamo Il nostro capanno E questo ovviamente di rosso I propri classici colori da fattoria Ci piacciono Giustamente Ok E credo che abbiamo fatto tutto Ottimo Ora invitiamo qualche amico Pennuto alla festa Le galline Che bello Comunque praticamente Ne abbiamo le galline Però le galline Hanno bisogno di mangiare Quindi praticamente Noi le selezioniamo Li diamo il mangime Strascinando così Ah, era nascosta la terza E loro iniziano a produrre le uova Lo so Infatti ti ho ignorato, cara Esatto Non capivo Ovviamente al momento Dato che il tutorial Ci dà le cose gratis Per schippare Ma normalmente 20 secondi per ogni uovo 20 minuti 20 minuti Scusami E poi con il cesto Raccogliamo le nostre uova Freschissime E le vorrei anche vendere Siamo saliti a livello 2 Vai, leggi Ehi, io sono Mike E gestisco il vecchio mulino Vicino al paese Non è la voce di Mike No, no, rileggi Con la voce di Mike Fammi la voce di Mike Ehi, io sono Mike E gestisco il vecchio mulino Vicino al paese Come hai chiamato questa bella fattoria? Ce l'ho il nome Hai perso il tono E quindi l'ho ignorato Consolini Landia Ma è banale No, è bellissimo Dai, Landia Lo usa chiunque Allora, vediamo La fattoria dei consolini Più semplice così Ma era più bella consolini Ma, vedi se ci sta Vediamo Perché sinceramente Non so quanti caratteri abbiamo Ah, infatti ce lo sta chiedendo Ci sta, vai Davvero? Vai, vai, vai Sono contento che qualcuno Si occupi di questo posto Bene, a presto Arrivederla Mike Bello Cosa indici di trasformare Tutto questo grano In panic In una nuova panetteria Va bene Cosa che è successo Allo spaventapasseri Per la voce Non è molto bella No, per niente Capito, ho dato enfasi Ah, ok Mi sembrava adatto Allora, dove la mettiamo? Apriamo e abbiamo La nostra, diciamo Panetteria dove fare il pane Come prima Si seleziona Si mette a fare E ovviamente ci metterà Un tot di tempo Quindi, guardate che figata Pacchete, pacchete E ci mette 5 minuti Mettiamone 2, dai Sì, ma, guarda Ah, vabbè, giustamente All'inizio ci li dà gratis Certo, certo Livello 3 Abbiamo sbloccato La cosa per fare il mangime per gli animali Il mangiatoio E poi tre nuovi spazi del terreno Per coltivare di più Perché ovviamente Piano piano possiamo coltivare anche di più Ti devi mettere nel verso giusto Perché se no mi dai fastidio Così? Allora, sì Ok Poi l'altro lo metti girato Perché se no L'ho girato dall'altra parte Lo devi mettere Ok E ok Lo so Ti sto altamente ignorando Perché sono tutti girati E tu se mi cambi il verso Mi dai fastidio Mi danno fastidio alle cose storte A me no Ho un fastidio enorme Per le cose storte Che non sono dritte A me invece non danno fastidio Poi vedrai la mia fattoria Quanto è dritte È dritte in tutto Ok, va bene Poi andiamo a vedere La fattoria di Ferinichi Infatti fra un po' Per fortuna il tutorial Sta per finire E tra poco possiamo gestire La fattoria a modo nostro Perché a me Che questo spaventapaste Digestisca tutto Non mi piace Allora Ti sta spiegando le cose Vuole una pagnotta Questo fantastico profumo Proviene da qui? Oh, ma dove sono finite Ma è una donna Non puoi fare questa voce Dai, dimole una bella pagnottina Allora Tenga una pagnottina E ci siamo fatti 15 monette Perfetto Allora prendiamo tutto il grano Assolutamente E mettiamo subito A fare il pane Che comunque ci mette 5 minuti Quindi Visto che ci vuole Un po' di tempo Lo mettiamo subito a fare Dopodiché Mettiamo Allora questo qua E poi tutto il grano Ok Esatto, esatto Pridiamo da mangiare Alle nostre belle galline Così torno A produrre le uova Ah no, non è ancora pronto Quanto ci vuole? Sì Ah ok, trovo da subito Infatti ricordavo bene Ok E quindi A mettere a fare il cibo Per le galline Livello nuovo Livello 4 Già, livello 4 Nulla Che tirchi Dove stiamo andando? Ah, sta arrivando Ah, il camion delle consegne Giusto Adesso sblocchiamo Bello, 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 bello Praticamente ci propone Di vendere Tante cose In una sola volta Per guadagnare Tanti soldi E tanta esperienza Quindi viene Ci chiede Adesso lo vediamo subito Guarda È arrivato il furgone delle consegne Ok Sì, lo sappiamo Non c'è bisogno che lo spieghi È talmente facile Che non c'è bisogno Selezioniamo qua Ci dice 16 gold E 14 di esperienza A vendere due uova Noi clicchiamo così Il furgoncino se ne va E porta le uova Ovunque voglia andare All'asilo Le sto portando all'asilo In questo caso Uova fresche per l'asilo Cosa c'è di meglio Mi sembra giusto Adesso ci chiede Un uovo e 4 di grano E dato che ce l'abbiamo Andiamo di nuovo Perché comunque Così saliamo in fretta Di livello E quindi sblochiamo subito Noi cose Quindi per ora Conviene focalizzarci così Nel mentre il grano È quasi pronto Dicevo il pane Lo stiamo facendo E invece non possiamo Mettere a fare il mangime Ma tanto qua Avranno fame Quando finiscono appunto L'uovo quindi Tra 18 minuti Quindi siamo tranquilli Con i tempi Chi è questo Ommaccione? È Greg Glielo conosco già Ciao sono Greg Il tuo vicino La voce ti ho detto Ciao Ti piace Ciao sono Greg Il tuo vicino Se hai bisogno di attrezzi Vieni da me Non ce la faccio più Ma vedremo di accontentarti Mi piace ta No Va bene Greg Veniamo volentieri Apri la barra amici Guarda quanti amici ha Steph Vabbè per ora Non ci siamo ancora connessi Giustamente Poi ci connetteremo Con tutti i consolini Esatto Allora vai da Greg Lui avrà la possibilità Di venderti delle cose Molto importanti Ok Adesso te lo fa vedere Benvenuto nella mia fattoria Non era che la faccia La fa la tu Guarda tutti i prodotti Che vendite Nella mia bancarella Allora Ci compriamo Un fagiolino Una cosa per tagliare La legna Ti consiglio di prendere Sempre gli utensili Gli utensili Tutto Quando li vedi Nelle bancarelle Sempre senza le prenderle Perché quelli scarseggiano parecchio Quindi sono molto importanti Da prendere Greg Scusa Posso avere la tua fattoria Così giusto per chiedere Sai È leggermente più bella Della mia Nel mentre guarda È cresciuto il mais Quindi possiamo finalmente Metterci al lavoro Pensavo di ripiantarne Ho piantato i fagiolini Ah è la soia Soia Non mi veniva il nome Soia Ok non l'avrime detto Ok ne ho piantato un po' Ma non tutti Però a questo punto Il mangime non ci serve da fare Perché l'abbiamo comprato da Greg E quindi ne abbiamo già Esatto Otto Qua cosa ci chiedi di vendere Vediamo Perché uno mi segna Che lo possiamo fare Due di mais E tre di grano Vai Vai sì Facciamola Così continuiamo a fare esperienze Il nostro primo panino Pronto E ne mettiamo subito A fare anche un altro In coda Ok a questo punto Guarda Possiamo vendere un panino Appena torna Quando torna Giustamente il furgone Perfetto A proposito Salendo al 5 Ne abbiamo altri 3 Li devi mettere Non li metto Come li vuoi tu Non lo farò mai Arrenditi Le cose storte Sono il tuo punto debole Non piace a nessuno Vederle storte Ma non sono storte Sono carine Chiedete a Steph Di mettere le cose dritte Non provateci Le cose dritte Cancello i commenti Perché è un disgraziato Visto che dobbiamo aspettare un po' Che tutto venga fatto Le uova Il pane Il mangima Eccetera eccetera Perché non andiamo a vedere Il villaggetto di Ferinichi Ovvero la fattoria di Ferinichi Uh allora aspetta Aspetta Ti posso dare il mio tag Giusto? Credo Perché vedi c'è il tag Quindi adesso mi connetto Sono anche i seguaci Quindi io vado in amici del gioco Vado da Ferinichi Visitare Yes Che poi ci tengo a dire una cosa Prima di farla vedere Io questo gioco ci giocavo Più di due anni fa Ho fatto l'accessor Era magicamente Non so come ancora Salvata la fattoria E ho fatto Come accidenti Io faccio ad avere Una fattoria così bella Mi sono fatta per 5 minuti Complimenti da sola Perché mi ero dimenticata Com'era Siamo pronti? Sì Sto facendo vedere il nulla Vuuu Spim Sono molto soddisfatta Sì Il mio capolavoro Questo Ovviamente guarda Tutti i terreni Delle coltivazioni dritti Uno così Uno così Uno così Bravissima Sì Un sacco di animali Perché conosciamo bene Nella reputazione di Ferinichi Giustamente la regina degli animali Non può non avere tutta Capito? Assolutamente Una fattoria piena di animali Poi qua ci sono cavalli Cani Guardate i cani Gatti che bellini Che bellini che sono Quelli li ho pagati un sacco Costano un sacco E sono inutili Sì perché rimangono solo Gironzolare Però sono bellini esteticamente Ho i miei lavoratori Poi ha gente che lavora per lei Probabilmente schiavi Che ha rapito Perché lei tratta bene solo gli animali Con le persone È cattivissima Esatto Guarda Vabbè dai Usiamoli dai Ci sta Tre diamantini Ci sta Ok Possiamo tornare E anche la città Un sacco di cose Le faremo vedere Man mano che andiamo avanti Il tuo momento è finito Adesso torniamo Alla fattoria dei consulini A livello 5 Ego centrica Non c'è bisogno di specificare il livello Raccogliamo le nostre uova Ridiamo con il mangine Una non l'hai presa A tutti e tre Quella non l'hai presa Grazie Perfetto Abbiamo da vendere delle uova Sì 21 di esperienze In una sola botta Quindi facciamo Il livello 6 Che era esattamente Mi sembra giusto L'obiettivo che avevo Raccogliamo tutto questo bel mais Lo risseminiamo pure subito Così continuiamo ad aumentare La produzione di mais Una pagnotta è pronta Ne mettiamo subito a fare di nuovo Un'altra Che bella produzione Che stiamo avviando Sì Uno di grano in più E mettiamo a fare anche quello Arriva il furgone Dai È il momento del livello 6 Sono prontissimo E non so neanche cosa ci dava Il livello 6 Vediamo Ricordiamo bene Oh le mucche Bello 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 Quindi tutto anche il latte Allora Praticamente Abbiamo il Lattificio Caseificio Caseificio Ho provato A inventare Non sai dove si fa Dove si lavora il latte Muu È tanto che non si vede una mucca Da queste parti E recuperiamo subito Con un bel recinto Per le mucche Che metteremo a fianco È molto più grande È un po' più grande Sì 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 Per quello ti ho detto Lascia spazio Così Sì per il recinto delle mucche Perché è davvero grande Una Due E andiamo Ne lasci solo due per ora Beh me ne ha fatto mettere lui due a forza Allora Perché ne puoi mettere fino a cinque ho visto Facciamo tre Tre è sempre il mio numero preferito Ok Perché produci tre di mangime Quindi per diciamo Conviene andare a botte di tre Capito Ok Ok Quindi tre mucchine Tre galline Come vedete le galline ci mettono 20 minuti La mucca ci mette un'ora E vabbè ci sta Per il latte della mucca Tocca aspettare davvero parecchio Dopodiché Facciamo esplodere questo pezzo qui Liberiamo tutto bene qua E facciamo il caseificio Che piazziamo Che per ora vabbè anche questo è gigante però Non abbiamo troppa scelta Anche questo due ore Questo ci mette due ore Allora raccogliamo tutto qui Ripiantiamo Mettiamo anche un po' di grano Perché ci serve Prendiamo Uh che bello Possiamo tagliare un altro albero Allora facciamo questi Che sono fastidiosi Sì assolutamente Sì 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 A voglia Qua cosa possiamo vendere Una Una pagnotina con il mais Andiamo subito a venderli Il pane fra un pochettino È pronto E tutto sta andando per il meglio Nella nostra fattoria Direi che ci possiamo fermare così Per questo episodio Esatto Adesso c'è da aspettare Due ore per il caseificio Un'ora per le mucche E venti minuti per le galline Quindi c'è tanto 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 da aspettare Speriamo che vi sia piaciuto Questo video Quindi in base al sondaggio Ai likes Ai commenti E alle visualizzazioni Che farà questo video Decideremo se continuare Questo gioco come serie O il gioco che uscirà Tra qualche ora Probabilmente due Massimo quattro ore Quindi preparatevi Perché deciderete davvero Assolutamente voi Che cosa continuiamo Perché se dice così Lasciateci un bel like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao